Musica Incidente oggi pomeriggio, lunedì 16 aprile, poco dopo le 15, nei pressi del cimitero di Lusiglie. Un uomo sull'ottantina, domiciliato a San Giorgio Canavese, ha perso il controllo della Fiat 600 che stava guidando e che nella curva è uscita di strada ribaltandosi e terminando la soccorsa dritta sul prato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'ambulanza del soccorso avanzato di Caluso e della Croce Verde San Giustese, l'elisoccorso del 118 e i carabinieri di San Giorgio Canavese. L'uomo, subito a soccorso, è stato elitrasportato all'ospedale di Cirie. Sì, sì, dica di passare in caserma. Sì, sì, dica di passare in caserma.